Ehi là, amici! Pronti coi like che oggi ci si diverte? Le mie mani sono lo strumento che permette al mio animo di esprimersi con la scrittura. Le gradirei intatte. Tranquillo, vedrai, è divertente. Devi indovinare cosa c'è dentro. Cripta? Cosa c'è? Sto registrando un video con... Come vuoi, ma c'è Scossa che è nel tuo laboratorio. Cosa? Scossa! Non toccare... Veramente Scossa è andata al parco ad infrangere i suoi sogni amorosi contro il muro dell'indifferenza gastoniana. Albane, non mi hai abbandonato, vero? Tanto vale giocare. Lo faccio per voi. Dunque, è liscia, tonda, c'è un bordo. È umido, decisamente umido. Oh, liquido, freddo, freddo. Cosa potrebbe essere? Acqua? Ma ci sarà dell'altro. Niente. Niente. Niente neanche qui. Niente. Oh, ho sentito! No, niente. 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 Niente neanche qui. Niente. No, niente. Niente, ho capito. La risposta è acqua. Una boccia con dell'acqua. Che povertà di contenuti. E voi guardate davvero queste cose? Dove andremo a finire? Molto divertente. Macabro? Ma dove sei? Macabro? Macabro? Oh, mio Dio. Un piragna. Macabro! Sputa, sputa! No! Sputalo! Macabro, che brutta fine! Oh, no! Dubito che vogliate mettere il like e vi capisco. Se volete altri video, guardate su un altro canale oppure cliccate solo i miei, non quelli di Macabro, che non è divertente. Sputa, sputa!